ciao amiche ciao amici bentornati a questo nostro appuntamento sapete già cosa dovete fare seguitemi su youtube cliccate sulla campanella per avere sempre i miei aggiornamenti e anche sugli altri social mi trovate su instagram facebook e tik tok bene oggi oggi vi voglio parlare di relazioni e di sicurezza sì perché la base per qualsiasi relazione che sia una relazione d'amore che sia una relazione di amicizia o che sia una notte di sesso si basa sulla sicurezza sulla sicurezza che ciascuno di noi ha perciò su ciò che noi pensiamo di noi stessi perché attenzione se noi non crediamo in noi stessi se non abbiamo autostima se non abbiamo consapevolezza quello che trasmettiamo agli altri è insicurezza e se trasmettiamo agli altri insicurezza gli altri si troveranno spaesati e magari rifiuteranno di avere approcci con noi l'autostima la ciò che noi pensiamo di noi stessi è fondamentale ed è la base di qualsiasi rapporto dovete sapere una cosa io per molti molti anni ho avuto bassissima autostima di me stessa mi sono ritenuta una persona di serie b pensavo che non valesse la pena conoscermi e approfondire l'amicizia nei miei confronti perché continuavo a ricercare all'esterno avevo questa ricerca spasmodica di trovare qualcosa o qualcuno che mi completasse qualcosa o qualcuno che desse un senso alla mia vita l'ho cercato per tantissimi anni per un tempo lunghissimo avuto questa ricerca spasmodica che mi ha portato alla frustrazione che mi ha portato a l'insicurezza all'insoddisfazione non era mai abbastanza ero sempre alla ricerca di qualcosa di più ebbene poi con la formazione grazie ai miei coach ai miei mentori sono riuscita a capire che tutto ciò che cercavo non era fuori non dovevo guardare all'esterno ma dovevo cercare dentro di me tutte le risposte che cercavo erano dentro di me dentro di me c'era quel mondo quella completezza quell'interezza che io cercavo all'esterno dentro di me avevo tutte le risposte che per una vita ho cercato in qualcosa o in qualcuno e nel momento in cui sono diventata consapevole che tutto quello che di cui avevo bisogno era dentro di me che dovevo solo avere il coraggio di tirarlo fuori e di farlo vedere al mondo senza paura di essere giudicata senza la paura del giudizio lei è stata la svolta perché non importa quello che gli altri dicono o pensano di me io so che ho una missione nella vita so che ho un mondo straordinario dentro di me con cui posso aiutare tante altre persone con cui posso avere delle relazioni sane e straordinarie perché quello che ho dentro di me fa brillare il mondo intorno a me perciò quando ho avuto ho iniziato avere questa consapevolezza le relazioni intorno a me sono completamente cambiate perché se non credete voi in voi stessi se non siete sicuri e determinati di voi come possono essere gli altri se non ci credi tu chi ci deve credere perciò questo voglio dirvi questo voglio trasmettervi le relazioni sono basate sulla sicurezza che tu hai in te stessa le relazioni sono ciò che tu trasmetti agli altri perché ogni relazione che sia una relazione d'amore che sia una relazione di amicizia o che sia una semplice relazione di sesso è basata su ciò che tu trasmetti se tu trasmetti insicurezza se tu trasmetti terrore paura questo viene percepito se invece tu sei sicuro di te stesso e non corri dietro le persone tu dai te stessa e poi sta agli altri cogliere e venire verso di te se gli altri non colgono non vengono verso di te vuol dire che non sono destinati a te ma questo non è un rancore verso le altre persone semplicemente è ok non farai parte della mia vita in questo momento magari ne hai fatto parte in passato magari tornerai a farne parte in futuro in questo momento le nostre strade si dividono e prendiamo direzioni diverse questo non vuol dire non voler più bene una persona o non amare una persona a volte amare una persona è anche lasciarla andare lasciarla vivere la sua vita lasciarla verso i suoi orizzonti perché attenzione quando le strade non sono più parallele quando le idee non ci sono più in comune quando il modo di vivere delle delle della coppia delle due persone è totalmente diverso è inutile incaponirsi e voler stare insieme le relazioni tossiche bisogna lasciarle andare quando si prendono strade diverse bisogna avere anche il coraggio di dire ok le nostre strade adesso si dividono e ognuno di noi formerà la sua vita questo è il coraggio di ammettere io so chi sono io so chi sono e cosa voglio e tu in questo momento non puoi più far parte della mia vita non bisogna aver paura di dire ok in questo momento della mia vita tu non sei più cosa è meglio per me per cui ricordatevi questo ciò che voi pensate di voi stessi lo trasmettete all'esterno per cui la prima cosa da fare è modificare l'immagine che abbiamo di noi stessi perché se tu pensi che sei un campione sarai comunque un campione se tu pensi di essere una persona di serie b sarai comunque una persona di serie b la sicurezza e la certezza di ciò che sei deve venire solo ed esclusivamente da te da nessun altro per cui pensa bene cosa ti dici e cosa pensi di te stesso e da lì è l'inizio di avere delle relazioni diverse da quelle che magari oggi hai se vuoi delle relazioni straordinarie devi partire proprio da lì da ciò che tu pensi di te stesso come sempre io vi dico che rimango a disposizione se volete costruire o ricostruire o cementare la vostra autostima e ciò che voi pensate di voi stessi io rimango qui a disposizione perché anche nel sesso e nei rapporti sessuali ciò che noi pensiamo di noi stessi è basilare rimango a disposizione come vi dicevo se volete fissare una consulenza con me in cui appunto vi posso anche aiutare nel pensiero che voi avete di voi stessi potete scrivermi alla mia email info chiocciola elenadallasanta.com potete scrivermi sul mio sito elenadallasanta.com e pertanto vi aspetto sono curiosa anche di sapere cosa voi pensate di voi stessi scrivetemelo sotto questo video scrivetemi cosa pensate di voi stessi qual è l'immagine che avete di voi stessi e vi aspetto sicuramente al prossimo video ciao